Buonasera signori e benvenuti nel mio canale quello che vi sto per mostrare stasera è un essere due della lion steel me l'ha prestato un caro mio amico e ci tengo a mostrarvelo è benvenuto ogni coltello italiano è veramente benvenuto nel mio canale e questi tipi di coltelli soprattutto mi stuzzicano la curiosità perché diciamo che sono i coltelli che sicuramente più intelligenti da avere in tasca leggeri pratici ben fatti ben costruiti italiani e soprattutto hanno una dimensione che veramente rappresenta un coltello utility mi è sempre piaciuta la forma che ha dato sia l'Sr1 che l'Sr2 questa è la versione sr2 sembrerebbe il coltello più grande in realtà è la versione più piccola dell'Sr1 ancora più edc se vogliamo dirlo sì c'è una bella differenza di essere un'Sr2 il molletta ha fatto un eccezionale lavoro su questo acciaio sleipner hrc 58 60 ma la cosa che veramente salta nell'occhio come tutta la linea sr1 sr2 è fatto che la manicatura è stata ricavata dal pieno da un unico pezzo di alluminio è stato fatto un eccellente lavoro anche di alleggerimento di questo pezzo qua di alluminio ed è veramente però senza però superire alle doti di robustezza affidabilità e durabilità nel tempo all'inizio vedendo immaginando questo alluminio aeronautico ho pensato al fatto che si possa ammaccare rovinare graffiare o fino a renderlo quasi inservibile in realtà ogni caratteristica di questo coltello non è stata lasciata al caso e così nemmeno neanche gli spessori considerati che sono veramente di tutto rispetto questo per farvi capire che questo coltello può essere sottoposto a sollecitazioni pari a quelle di un quasi un giudici sostanzialmente da un polibano e questo non è poco signori assolutamente no salta nell'occhio il sistema di chiusura che è un frame block con un piedino sostituibile con queste due bullonerie e un piede d'acciaio in modo che il frame di alluminio non venga assolutamente consumato e questo acciaio eventualmente può essere sostituito il sistema rotoblock che permette quindi di bloccare il frame se uno lo volesse per un ulteriore sicura una clip montabile solo da un lato ma piccola di pocket che nasconde abbastanza bene il coltello un generoso linea all quasi a far passare un paracorda singolo 550 e ovviamente un piccolo rompivetro penso sia più che sufficiente per aprire un vetro uno sportello di un'auto in casa d'emergenza ma francamente non ho mai provato e non è non ho mai visto neanche una prova sul campo su questo leggero dopo vediamo quanto la lama a si il sistema di apertura affidato a questi piccoli io li chiamerei piccolini thumbstone ambidestro e lo spessore della lama è di un generosissimo 4 mm e i dischi del movimento sono in teflon si strano a dirsi purtroppo è il teflon c'è chi è contrario e chi no però diciamo che il teflon non ha bisogno di manutenzione questo è poco sicuro ed è abbastanza affidabile vediamo un po il peso il peso di soli 107 grammi e dimensioni della lama sono di 8 centimetri circa di tagliente 7 dimensioni totale invece 18 centimetri io lo considero una bellissima lama essere un essere due è un bellissimo tagliente sicuramente il più imitato ho visto che ci sono addirittura recensioni a cui c'è anche una mia il g720 la ganza riprende le forme dell'essere un essere due talmente è bello e vi assicuro di prenderlo perché è un bel coltello da maltrattare questo è stato usato e la cosa mi fa piacere è stato usato abbastanza bene il rivestimento specie di gankotes superficiale ha resistito molto bene ai graffi e non l'ha perso completamente anzi è stato fatto rifatto il filo ma è stato fatto discretamente bene è un bel coltello secondo me per chi fosse interessato mi dovrebbe contattare o che vi giro direttamente il suo contatto potrei dirvi qualcosa di più della storia di molletta o di meglio tutto ciò che sta attorno al design di questo coltello ma aspetto di avere l'Sr1 che è il suo papà e di discutere insieme magari io dico che questo è veramente un signor di sì sicuramente meglio del dpx che avete visto questo è tutto non mi vogliono ieri oltre da molletta essere due è tutto alla prossima lasciate pure un messaggio se vi è piaciuto il video pollicino in su condividetelo se lo ritenete opportuno per chi fosse interessato e e alla prossima ciao